Questo video è sponsorizzato da la pagina Instagram The Punisher Bet Tra le varie pagine Instagram calcistiche è tra le migliori Vi lascio il link in descrizione e vi invito assolutamente a farci un salto In questo momento, se non credete, guardate con i vostri occhi Link in descrizione per andare sulla pagina Instagram di The Punisher Bet Garantisco Che vita de merda regà, che vita de merda, che vita de merda La Lazio è campione della Coppa Italia Perché non hanno ancora inventato un termine per descrivere campione della Coppa Italia? Regà, la Lazio ha vinto la Coppa Italia Un romanista in questo periodo è così sfigato L'ho scritto pure su Instagram, seguitemi se ancora non lo fate Simone Sicco, il frattino Baffa, il frattino Bassofico, la seguitemi Almeno una gioia, un romanista, un romanista è così sfigato È così sfigato, è così sfigato Che se dovesse cagare un piccione d'arcello Nel frattempo io sto a sbadigliare e mi strozzo con la merda di piccione Perché in questo periodo, ragazzi, va tutto male E ovviamente quando è merda e merda va tutto male Ti pare, ti pare che la Lazio non alza la Coppa Italia È impossibile, la Lazio alzerà la Coppa Italia E difatti la Lazio alza la Coppa Italia Batte l'Atalanta 2-0 Atalanta che dopo aver vinto 1-3 allo Stadio Olimpico E essersi dimostrato squadra capace, cazzuta Va a crollare allo Stadio Olimpico Che poi aspettate un attimo Mettiamo subito in conto una cosa Va a crollare Partita in realtà molto equilibrata L'Atalanta come minimo, come minimo Meritava i tempi supplementari come riconoscimento Perché, regà, l'Atalanta La partita l'ha fatta anche bene Derune è andato vicino al gol Nel primo tempo l'Atalanta ha preso più piede rispetto alla Lazio Nel secondo c'era batti e ribatti da una parte e dall'altra Quindi, in generale, l'Atalanta, almeno i supplementari, li meritava Partita molto, molto, molto equilibrata E qual è il discorso, regà? Qual è il discorso? È che se una squadra la butta dentro e l'altra no C'è poco da parlare Cioè, quando io vi parlo di Juventus Che dico, ok, Allegri vi posta sul cazzo Quanto vi pare Però perché siete diventati tutti esteti del calcio? All'altra dicevo che l'Inter giocava male La gente mi insultava Dicevo, regà, ma non è un insulto Per me è un complimento Il fatto che io vi dica, complimenti all'Inter che vince giocando male Eh, ma sì, che rosi No, è un complimento Perché quando una squadra gioca male e riesce comunque a vincere Vuol dire che è talmente rognosa Che un colpo al cerchio e una la botta E il risultato lo porta a casa, ok? E per me questo è molto, molto importante che avvenga Quindi, insomma, per me è un complimento Ma non so perché ultimamente, negli ultimi anni La gente è diventata esteta Che piace, gli piace il piacere No, il grande bel gioco che non porta frutti Perché sta Lazio ha vinto più del Napoli Tra l'altro Inzaghi mi sa che è diventato il secondo allenatore Dopo Sven-Goran Eriksson 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 Vabbè, mi ricordo ma come cazzo Eriksson Vabbè O svedese Sven-Goran Il secondo allenatore più vincente della storia della Lazio, regà Cioè, voi pensate alla parabola di Simone Inzaghi Cacciato per prendere Bielsa Dopo che era andato ad Interim Bielsa gli ha detto Suka se n'è andato È scappato Inzaghi che lanciava la Bresaola L'ho dito che Viene tutto il casino È rimasto e ha vinto praticamente cose che non aveva la Lazio Non aveva mai vinto Perché, oh Io mi ricordo Non eravamo a 9 Coppa Italia La Lazio stava indietro della vita Ci hanno quasi ripreso E Coppa Italia E Supercoppa Comunque i trofei li portano a casa Comunque, regà Per un tifoso romanista O una o l'altra Vedete, è come se Se stai a chiedere Non lo so A un cristiano Quale santo preferisce bestemmia Cioè, nel senso L'Atalanta ci odiamo Ogni volta c'è Atalanta-Roma E finisce che succede tutto Calazzo che voti che fa Quindi non si sapeva qual era peggio Io tra le due speravo Incesse l'Atalanta Vi dico la verità Uno perché Nonostante a me Gasperini Mi stia qua Ma tanto vedrete che Gasperini A me mi sta qua Intanto tiro un po' più giù Perché tante cose se ne stanno Nonostante a me Gasperini Mi sta qua Vedete che verrà Gasperini Allena a Roma Perché tanto io Ragazzi è così Non mi hanno messo il cazzo C'ho qua Viene Comunque a parte Ma magari A parte tutto Gasperini Mi sta qua E non lo sopporto Ok Però al di là di questo Al di là di questo L'Atalanta meritava per me Un trofeo Per quanto fatto Durante tutto il percorso Degli ultimi anni di Gasperini Che comunque l'Atalanta Ha sempre fatto bene E non ha mai portato Niente a casa E poi E poi soprattutto Per il percorso In Coppa Italia Eliminato Vi ricorderete la Juventus Facendo gli altri pippi Quindi insomma Non si parla Di una squadra Che non meritava Di arrivare qui E di portare a casa Il trofeo Però oggettivamente Regà la Lazio La butta da dentro E poi tra l'altro Tra l'altro La Roma Qualora dove si arriva a settima Con la Lazio ottava Non andrebbe in Coppa Italia In Europa League Perché c'è andata la Lazio Tramite la Coppa Italia Quindi attenzione Perché questo potrebbe essere Un problema Mentre tanto ormai In Europa minimo ce va Va anche in Champions Però in Europa ce va E per la Lazio Il discorso è un pochino diverso Comunque a me fa veramente ridere Perché io vedo Che questa Coppa viene Totalmente Snobbata Ora raga Io vi vorrei far notare Che la Lazio Così facendo Ha vinto un trofeo Si è qualificata Per la Supercoppa Italiana E è andata in Europa League Cioè ragazzi Ci rendiamo conto Di quanto sia importante Questa competizione Voi noi la snobbiamo Come se La Roma non veniva Da 11 anni Mi ha scritto su Instagram Un ragazzo Mi ha detto Ah sì Che io ti formo da 10 anni Non ho mai visto Vincere un trofeo alla Roma Cioè raga Il discorso qual è Che comunque Le squadre big in Italia Sono quelle Juve Inter Milan Roma Lazio Napoli E se vogliamo mettere C'è la Fiorentina Che è una nobile decaduta Ma c'è l'Atalanta Che è entrata al posto Della Fiorentina Però sono quelle Ok Prima Prima c'era Prima del Napoli C'era tra le sette sorelle C'era Il Parma Poi è subentrato il Napoli E ora è uscita la Fiorentina Praticamente è subentrata All'Atalanta Però comunque Sono quelle E se pensate Che alla fine La Fiorentina Non vince niente Da 2002 La Roma Sono 11 anni Che non vince niente Il Milan L'ultimo trofeo Che ha vinto Ha vinto lo scuetto del 2011 Così come Forse l'Inter qualcosa Ha vinto dopo Forse no L'Inter ha vinto nel 2010 Tutto e basta E' l'ultima cosa Cazzo E basta Nel senso Ha vinto tutto nel 2010 Però dopo non ha più vinto niente Cioè di base Se leviamo Napoli Lazio E Juventus Nell'ultimi 7-8 anni Non ha vinto nessuno Cioè è pazzesco Non capisco Come si faccia Come non si faccia Come cazzo dice Non capisco perché Non si dia importanza A una competizione del genere Che fai 4 partite buone Porti a casa una Coppa Vai a fare la Supercoppa Italiana a Doha Prendi il milione di euro E con quel milione di euro Cioè compri Milinko Vincisa E vincela Dalla squadra belga Che ti vale 100 milioni E ti fa vincere la Coppa Italia Che ti fa andare la Supercoppa Italiana E ormai che per i soldi Mio padre comprò Quindi sinceramente a me Come Coppa Non mi dispiacerebbe Vincela Visto che non vinco niente Vinco manco il trofeo Del nonno Comunque mi ero giocato Vittoria della Lazio E gode Caesito Caesito non ha segnato Ha entrato Non ha segnato E ovviamente Milinko Vincisa E entra Milinko Vincisa E dirà Ora segna Caesito Detesta La carcela E mentre segna Milinko Vincisa Dice Io che porcono Perché mi serviva O che vinceva la Lazio Con Decaesito Oppure che perdeva proprio Disastro Invece è successo quello che andava a succedere Ha vintato la Lazio Ho presa pure Non dico dove Non dico dove Comunque Qualcuno poi mi spiegherà Magari Perché comunque A noi se mi interessa particolarmente Perché il commentatore Ha chiamato tutto il tempo Caesito Bastos Cioè nel senso Non lo so Ok che sono entrambi di colore Non è mai uscito Bastos Cioè Se è solo cambiato Mai ha messo quella di Caesito E' entrato De Punta Cioè ma che cavolo Ma volete stare attenti Poi sta cosa mi fa rodere Ok perché Molto spesso Se non praticamente sempre I commentatori dell'area Vengono presi per culo Vengono perculati Che è una cosa che mi dà fastidio Perché comunque È un'ambizione mia Quella di arrivare lì Ok E avere sta nomea Del fatto che Il commentatore sbagli Mi dà urto Ok Perché già si sa Quando I post I meme su Instagram E il commentatore Dai Ma vogliamo stare attenti Cioè ma è possibile Che chiamiamo Cioè che dovete chiamare Per tutta la partita Caesito Bastos Ma io dico no Comunque non ho capito Gasperini Non ho capito i tre cambi Fatti così Half-Life di Gasperini Quando fai una cosa del genere Probabilmente è perché Ti sei reso conto Che hai sbagliato qualcosa Dal principio E quindi ragazzi Lì l'errore di Gasperini C'è Per quanto che possiamo stare a dire Che Gasperini Sia un allenatore forte Sia un allenatore preparato Eccetera eccetera E l'errore lì c'è Comunque Comunque niente Maledetti Maledetta Lazio Maledetti Cugini Loro vincono la Coppa Noi niente Come sempre Tra l'altro ve l'ho detto Quando va male Va male Ora c'è questo sprint finale L'Atalanta che punterà Ad arrivare in In Champions League Io ho tanta paura Io ho tanta paura Anche perché Se dovessimo arrivare a settimi E il Torino è lì Non è che tu dici Il Torino è A Monculi Il Torino è lì Ce l'hai dietro l'attaccato Se tu sbagli una partita Sei settimo Il Torino è lì E difficilmente sbaglierà Perché sa che deve Dal tutto per tutto Tra l'altro mi dispiace Perché il Torino Un posto in Europa Lo merita Ma sinceramente Ci voglio andare io Cioè nel senso Già il 99% Non vado in Champions Non vado neanche in Europa League L'anno prossimo Vorrei farmi le partite Con il Solskjaer No il Solskjaer Che è l'anno di Manchester Così Ma quella squadra danese Il 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 Gent Quelle squadre tipo Le squadre tipo L'FK Belgrado Cioè io le partite Me le voglio fare Tra l'altro Se arriviamo sesto Facciamo anche i playoff Quindi la stagione inizia prima Meno calcio Meno Meno tempo senza Roma Ma in realtà mi rote il culo Perché la preparazione atletica È molto importante Se arrivi sesto Ragazzi È un grave problema Perché vai a fare i preliminari D'Europa League Innanzitutto ti manderanno tipo A parte ci devi andare Perché attenzione ci devi andare Che non è sicuro Ti manderanno tipo in Bulgaria Ti manderanno tipo in Serbia Ti manderanno tipo in Russia Ti fa questi preliminari Che partono Da luglio Si sa perché Ci fanno 14 preliminari E arriva gennaio Che c'è il fiato qua Poi se abbiamo Spalletti È finita perché Spalletti Anche se praticamente Inizia la stagione a ottobre Comunque vanno Inizia la stagione a settembre A ottobre A febbraio Lui comunque A inizio marzo Crepa Raga questo è Spalletti Io Spalletti non lo voglio Non lo voglio Si è parlato di tante alternative Del padre di De Rossi Magari C'è Casca De Gasperini Che mi sta qua Proprio io non lo sopporto Non va nessuno giù Però a confronto a Spalletti Che cava pelata Se in palla qua È meglio Gasperini Ranieri Se ne va L'ha detto lui Ha detto Il mio lavoro qui è finito Ho fatto un mese all'ormun Non lo so Non lo so Non lo so Comunque Comunque Alazzi ha vintato la coppa E noi abbiamo vintato la coppa Del nonno Io non la faccio più Ve lo giro Non ce la faccio più Fatemi sapere la vostra Un commento qua sotto Tra l'altro Fammi sbrigare Perché poi No ormai Lo mette lì Trovamo la gente Le dice Ho fatto i dati Solo per guadagnare Che burlone che sono Vabbè Comunque Fatemi sapere Che ne pensate Io non vi è stato Il migliore in campo E il peggiore E soprattutto Perché Ilici ce l'hanno menato dall'inizio Perché Ilici ce l'hanno pestato a sangue Ogni volta che piova il pallone Davano uno schiaffone O buttavano per terra Perché Fatemi sapere un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Se vi è piaciuto Vi lascio un like Se vi incontriamo come sempre Un dislike Vi ringrazio di aver visto questo video Buon ciao Noi come sempre Vediamo un prossimo video Domani parliamo di un argomento Un po' particolare Faccio un po' il pardo della situazione Ciao ragazzi Ma mi sono drogato stasera Invece me lo devo a per culo Che schifo Ciao